Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno dato esecuzione ad una misura cautelare degli aresi domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di due persone che si sono rese responsabili del reato di truffo in danno di anziani. Il provvedimento è frutto di una mirata attività di indagine condotta dalla stazione di Maiori a seguito della denuncia sporta da una donna di 80 anni. L'invito che l'arma dei carabinieri fa alle vittime di questi reati è di dubitare sempre di chi chiede il pagamento in contanti presentandosi come corriere, avvocato o forze dell'ordine e di contattare immediatamente il 112.